Prorogata fino al 3 aprile, la mostra è in Palazzo Medici Riccardi a Firenze dedicata alla street art, con le subway drawings di Keith Haring e le opere di Paolo Bugiani. Il termine per visitare la mostra, che ha registrato oltre 30.000 visitatori nei primi tre mesi di apertura, era inizialmente fissato per il 4 febbraio. Made in New York, Keith Haring, Paolo Bugiani & Co. è incentrata sulla fase embrionale della street art e presenta un Keith Haring inedito, grazie a 20 opere in gessetto realizzate dall'artista americano sulle affissioni nere che coprivano le pubblicità scadute tra l'81 e l'83, salvate da Paolo Bugiani, che in quegli stessi anni si stava formando come street artist a New York. Sempre di Keith Haring, in mostra due opere su tavola del 1983, ad ampliare il percorso oltre 30 pezzi di Paolo Bugiani sui suoi progetti a New York. La mostra è il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze, il contributo di Regione Toscana e la produzione e l'organizzazione di Metamorfosi.